colgo l'occasione ragazzi per ricordarvi di iscrivervi al canale aiutarmi a crescere attivare la campanellina e vi ricordo il nuovo contest sul canale ragazzi il contest road to 15k ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest troverete tutti i miei contatti contatti del team glitch e tutto il resto detto questo vai con la intro ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono matti e oggi vi porto una notiziola fresca fresca perché fresca fresca ragazzi perché dalle 14 di questo pomeriggio la ubisoft ha deciso di rilasciare per tutte le piattaforme quindi per pc e per playstation e per xbox gratuitamente rainbow six ragazzi però badate che questo non è per sempre adesso vi spiego più o meno vediamo intanto il trailer di rainbow six ciao a tutti 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 ciao a tutti